BELLA A TUTTI RAGAZZI, QUI MAC3 Sono con un nuovo video dopo tantissimi millenni di assenza E quest'oggi sono su Garry's Mod a presentarvi una nuova serie La serie si chiamerà MAC vs E il nome che seguirà sarà del mostro con cui combatterò Combatterò? Sì? Lotterò? Facciamo così Lotterò qui senza mai morire Spero che voi commentiate e fatemi sapere con quali altri mostri posso combattere io E quest'oggi siccome non sapevate di questa serie il mostro l'ho scelto io Con le armi combatterò solo con le pistole Soltanto con queste pistole Allora siccome ho 90 di vita Quindi è meglio farsi uccidere subito Grazie Ok Ok bravo Allora il campo è pulito Possiamo lottare Allora in questo video ho scelto Il grande crab Se lo riesco a trovare Eccolo il gonark Allora ne spannerò tre gonark Senza mai morire Con le pistole Però fatemi preparare prima Le pistole Eccole qua Iniziamo da questa qui Che mi pare bella Comunque NPC Allora siamo pronti Spawniamoli lontani Quindi Fisica Li spawniamo Quindi Dobbiamo l'arma Spawnio Ecco qui Allora NPC Uno Due Tre Oh Merda Allora iniziamo Allora il primo gonark Arriva Oh cazzo Ah Pensavo Pensavo entrasse Oh Allora devo fare fuori Subito il primo Dai Appena mi libero di questo Riesco a fare anche Guarda Si cazzo Mi bebi Ok Ah no Era morto Inizia Suo figlio Muori Si Uno è andato Ok Aspetta Mi sa Che uno è andato a mano Siamo qui Mertà Oh merda 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 E chiaramente non posso fare il nabbo Quindi No però non posso fare neanche lo stupido Aspetta che mi sa che non mi ha visto Oh Culo Oh merda mi sparo con le voce No 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 Vai lontano Vai lontano Tu non mi hai visto Vieni qui brutta bestia Facciamo faccia a faccia Un tipo lo sto inculando a quel morto Oh merda Problema che si fa a girare Siamo fattute Ok Eh eh Caro amico Oh oh Merda Cacchio corri 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 Corre Corre Oh Oh merda Dai che è l'ultimo Dai che è l'ultimo Oh cazzo Non mi beccherai Oh cazzo Guarda che culo Wow Che culo I'm sorry Bene ragazzi Questa puntata è finita Ehm Ehm Positivamente Quindi ho vinto Anche se sono stato un po' nabbo La prima volta Perché mi sono piccato là dentro Però sapete com'è Poi quell'altro Sono stato Non so se dire Non so se lui è stato stupido O io sono stato intelligente Comunque secondo me lui è stato stupido Che stava pensando a fare l'amore con Quest'altro gonark morto Quindi pensate voi Che macirio Comunque Ehm Questa puntata finisce qui Io vado a fare un giro E ci vediamo Alla prossima Puntata Ragazzi Puntata